Prego Giuseppe Pasqualetto, l'applauso per lui ora, il disegno, la matita e il ritratto, la dolcezza dei tratti e la possibilità del divertimento per le cose che ti fanno ti contraddistinguono, per te che cos'è la... Descrivere una scena, un evento cercando di portarla con una semplice matita, con la cosa più... Sembra quasi insignificante, ma io la provo forse superiore anche a certi colori, perché tramite la matita io cerco di trasmettere il colore. C'è il maestro Villa, amico dei grandi, comandare un po' nel Pasolini, che vorrebbe aggiungere un commento sulla tua arte, visto che conosce bene i tuoi padri e la tua opera è anche esposta, che raffigura Margarita, Einstein ed altri. Una cosa che il nostro amico con Grince, per ragione di estrema modestia, è che io l'ho più volte tacciato di essere il Norman Rockwell italiano. Chi sa di disegno e ha seguito la storia del disegno nel mondo, sa che Norman Rockwell era un numero uno in assoluto, ma non solo per la capacità di disegno, se è tecnico, che possono avere 10.000 persone, ma la capacità di ironia, autoironia, autoritratti, cosa che questo signore qua lo vede, principe e re di se stesso. Grazie. 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 Grazie.